Una realtà molto diversa da ciò che dipingono le cronache. Qui c'è un'umanità che ci chiede aiuto. E' il commento a caldo del consigliere regionale del PD, Ruggero Menea, presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile del Consiglio regionale pugliese, dopo la sua visita al CARA di Bari. È più piccola appena un mese, ma sono diversi bambini con le loro famiglie, che oggi vivono nel centro richiedenti asilo di Bari-Palese. Una piccola città incastonata tra l'aeroporto e il capoluogo, che accoglie 1.389 persone, compresi 23 nuclei familiari. Molte sono in fuga dalla guerra, da regimi di governo totalitario o comunque da condizioni di vita inaccettabili. Nel CARA ci sono persone di 30 diverse nazionalità, anche se le più numerose sono nigeriane. Le altre provengono da altri paesi dell'Africa, ma non mancano anche migranti del Medio Oriente. A Bari, lo stato italiano dà loro più di una speranza, proprio grazie al CARA, gestito dalla cooperativa Oxilium, diretta da Michelangelo Armenise. Ben 154 le persone che nei diversi ruoli lavorano in questa struttura visitata nei mesi scorsi dal presidente Michele Emiliano e dal vice ministro per l'interno, Filippo Bubbico. Ruggero Ammennea ha voluto conoscere questa realtà, parlando con chi tutti i giorni lavora per dare una vita dignitosa a queste persone e con gli ospiti, quasi tutti i giovanissimi. Mi sono trovato di fronte persone che hanno sofferto, che hanno dovuto lasciare il proprio paese e sopportare anche la fame e gli stenti, dice il consigliere regionale. In questo centro hanno trovato ben più di un letto e di un pasto. L'umanità con cui vengono assistite non è una parola di circostanza. In questo centro, inoltre, lavorano persone che hanno messo al primo posto gli altri nella consapevolezza che dare a chi è stato meno fortunato sia un dovere. E l'accoglienza dei migranti, qui da emergenza, si è trasformata in quotidianità, così che questa struttura è di fatto un modello. La realtà di questo centro è molto diversa da quella che le cronache hanno spesso dipinto, ma c'è molto ancora da fare, perché gli ospiti del CARA si sentano cittadini e non migranti. In un momento in cui l'accoglienza dei migranti è un dovere di tutti, continua Menea, è indispensabile che la protezione civile e regionale faccia la sua parte in una regione trasfrontaliera come la Puglia. Come responsabile del Comitato Permanente, mi impegno anche a contribuire alla formazione degli operatori, che è fondamentale per affrontare l'arrivo incessante di altri migranti, ma soprattutto a fare in modo che questo non sia un mondo a parte, ma diventi sempre più vicino alle nostre case, alle nostre piccole realtà private. Per questo, conclude Menea, tornerò presto a visitare il CARA e la sua meravigliosa umanità.